E mi raccomando ragazzuoli, usi il mio codice creatore, killer anonimo 89, nello shop. Buona visione. Mi senti? Sì, tu mi senti? Sì. Come stai? Bene. Tu? Scepivano le fibrosi, giusto? Eh sì. Hai anche un accetto? Sì, 800. Ok. Avviare la mia base o te o il geratino? Sì, sì, va bene, avviare la tua base, non ti preoccupare. A te cosa ti serve? Non so, hai tipo di atomizzatore? Di atomizzatore, aspetta, di atomizzatore. Vedete se c'è il progetto. Ho un qualche arma al 144, va bene, ho anche una. Sì, c'era al 194. Mi senti? Sì, sì. Ma quello come vuoi, per me non ci sono problemi. Beh, non crede ai trucchi, ne sa scambiare anche faccia a faccia, non te lo cosa, non ce faccio se vuoi. Allora... Allora... Uno, due, tre... Quattro, e di voi potrebbe garbare questo? Sì, sì, sei grandi, sei... E poi... E poi... Un po' di arte, un po' di pancetto? Ti serve l'alcoxeno? Sì, l'alcoxeno, sì. Ti serve un'alcoxeno, sì. Ti serve un'alcoxeno o quattro cosa? No, 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 ti trato un po' di arte. No, non ti preoccupare, non ne basso un po' di pancetto. Sì, ma c'è l'alcoxeno. Di occhio, c'è l'alcoxeno. Andi, voi c'è la strada. Anzi, volentieri, ralano, prendi prendi. Spendimi. Che ti serve come raggio, trappole, la strada, la strada, la strada, la strada... perchè per un po posso usare si sia e vedo altre 144 popolo bellissima bellissima serocati notturno e c'è anche il progetto io te lo posso regalare a te e c'è il progetto no anch'io ce l'ho vabbè vedi senti garba sotto a tutte le impostazioni colpire un nemico pausa l'idea e se lo andava a ridire l'esplosione sì sì l'esplosione fa l'esplosione e dimmi tu no 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 ti serve qualche altra cosa almeno sicuro 100% qualche tipo di trappola noi viti e bolloni non si fa con l'unione no e te l'ho stato per te l'ho fatto ma te li rimango questo è che ti serveva anche altra arma non ti preoccupare anche la da scrivere magari che lo regali alla epic va bene bro sei stato simpaticissimo e disponibile grazie di mille ciao bello mi interessa a te buon proseguimento ciao grazie eccomi bro ciao ciao bello tutto a posto sì 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 tutto bene bene meglio così stavo cercando un po' di raggio 2 3k non molto sì però però a me mi servivano trappole sì sì c'erano un paio di k di trappole ok che trappole di servono tu che cosa mi potresti dare quelle che ti servono sono le portate portate allora mi servono aspetta un attimo che te lo dico subito allora mi servono mi servono colpate poi campo elettrificato soffitto poi mi si vede e d'arte a muro da quanto tempo giochi? da quanto tempo giochi? da 2 mesi 2 mesi 2 mesi 2 mesi e se rango? e se rango? e 32 e 32 giusto 32 ci sta ci sta io 2 mesi però dove posso darti? 3 mesi ma di vendere qualcosa sto dipendendo va la cura? va la cura? no no già lo spazio tutto quanto tutto quanto si si è già qua già Montespago ah già si è un Montespago Montespago si si infatti deve fare secondo no 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 cioè o sennò la potene aspetta aspetta ne potresti mettere uno sbazzatore solo per vedere com'è ma sono questi io li uso sempre base a FK Tattina Dardy e questo ok e per tutto tre stacche di raggio va bene 2 2 2 2 perché sono quasi 2k questo vabbè ok ok scopo 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 è un gros sprawdlere mi senti ti sento ti sento mi serviva 2 3k di raggio cosa ti serve e un ferro lo scambio cosa non ne ho oltre con qualche trappola un po' di corlucente attivazione un po' di armi al 144 per caso ai di che bulloni ok facciamo quelle quante ne servono più o meno? non lo so facciamo un k per un k no cioè me li sta regalando il raggio eh si perché ne ho un po' tanto quindi c'è proprio per buttarlo devi regalarlo va bene per la base ti do 5k di video e bulloni per 2k di raggio va bene? vabbè ragazzi c'è proprio ok ok killer anonimo lo sai che ce l'ho sentito cosa? ci stavo pensando un po' che no è il tuo d killer anonimo ma magari lo usano in tanti non so da dove l'hai sentito ehm aspetta un attimo aspetta 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 devo un attimo provare una terriba scusa che stai leggendo ecc ahahah 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 ma cosa altro ehm sì si nello sciocco no no ma chi stai ascoltando se ci sanno fai penso a te possibile se sei tu chiede no fra dai non è un regalone esagerato a casa ok va bene proprio perché se tu fra prendo tutto ok non c'è un'altra cosa chiede ecco che volevo accendere se ti fa non so m molto curvo molto caro ciao bello io ti saluto anche a te un bacio la richiesta te la tengo ciao bello grazie ciao bello ragazzi ma i truffatori dove sono? dove sono i truffatori raga? non li trovo più ma cosa sta succedendo a salvo il mondo? nessuno più truffa più ragazzi non sta attroffando più nessuno su telegram mi raccomando 200 like raga proviamo qualcun altro e vediamo se ci truffa bella ciao